Ciao bambini, sono la maestra Sara. Sono qui per raccontarvi la storia di Meddi la Medusa. Meddi è una piccola Medusa che vive in fondo al mare, con mamma, papà e la sua sorellina. Meddi è molto carina, colorata e luminosa, ma come tutte le Meduse, irrita la pelle di chiunque la tocchi. Per questo motivo non aveva amici. Decise allora di andare alla ricerca di qualcuno che giocasse con lei. Incontrò una bellissima sirena che, vedendola, fuggì spaventata. Si avvicinò a una spiaggia, ma tutti i bambini si allontanarono. Un giorno ci fu una tempesta. In fondo al mare diventò tutto buio e i pesci si spaventarono. Ma Meddi, con la sua luminosità, riuscì a riportare la luce. Meddi diventò un'eroina. Trovò tantissimi amici che iniziarono ad apprezzarla e a giocare con lei. Ognuno ha le sue qualità. Basta riconoscerle per diventare amici e vivere insieme felici e contenti.